Ecco, intanto guardate questa strada, allora qua ci siamo in via Don Bartomeo Grazioli fino in via Giovanni Zambelli, adesso faccio un giretto da queste parti, poi torno indietro perché vi voglio far vedere un'altra cosa. In pratica adesso ci troviamo nel quartiere di Mirafiori Sud, una zona di Torino con una vasta superficie che comprende gran parte della periferia sud-ovest del capoluogo piemontese, di cui in passato faceva parte della circoscrizione 10, mentre adesso fa parte della circoscrizione 2. Da quando? Dal 2016. Il territorio di Mirafiori deve il suo nome all'antico castello sabaudo, detto appunto Miraflores, fatto costruire da Carlo Emanuele I alle porte meridionali di Torino nel 1585, come regalo alla moglie spagnola Caterina Michela d'Asburgo, ed è andato successivamente distrutto. La zona è nota nella storia del XX secolo, soprattutto per la Fiat in pratica, perché in passato è stato un grande polo produttivo, tanto che la rese così una delle più popolose della città. Quello che c'è da sapere è che questo quartiere confina est col quartiere Lingotto, attraverso Corso Unione Sovietica nel tratto di Corso Tazzoli e Via Noratovigliani e Borgo San Pietro, frazione praticamente di Moncalieri, dove c'è Piazza Bengasi e Via Sestrier, che poi si dice Piazza Bengasi e non Piazza Bengasi, come dicono tante volte i torinesi, perché quella è la vera pronuncia, Piazza Bengasi. Poi, tra l'altro Nord, con i quartieri Nizza-Millefonti e Lingotto, rispettivamente attraverso Via Noratovigliani nel tratto fino all'asse della linea ferroviaria Torino-Genova, quindi sempre Via Noratovigliani fino al piazzale Caio Mario. E ancora, col quartiere Mirafiori Nord, attraverso Corso Tazzoli nel tratto da Corso Unione Sovietica a Piazza Cattaneo e attraverso Corso Orbassano nel tratto da Piazza Cattaneo fino a Strada del Portone. Invece, ad ovest, con un piccolo tratto dell'Interporto di Torino più un tratto con Benasco attraverso Via Gorini e Cimitero Parco, quindi con un tratto nel comune di Grugliasco, a ridosso dell'inceneritore di Frazione Gerbido. Infine, con lo sviluppo della tangenziale autostradale di Corso Orbassano. Invece a sud con Benasco, dal tratto di tangenziale sud di Torino, svincolo di Corso Orbassano fino allo svincolo Stupinigi, praticamente che poi è una frazione di Nichelino dove c'è la palazzina di caccia che vi abbiamo già fatto vedere, e con lo stesso comune di Nichelino attraverso il torrente Sangone. Però il punto è questo, che è questo che state vedendo voi, è Mirafiori Sud, tra l'altro, perché, parliamo parlando proprio di Mirafiori Sud, si può dire che costituiva una circoscrizione a sé. E prima di essere accorpata quella di Santa Rita è Mirafiori Nord, ed è una delle circoscrizioni più vaste di Torino, e si può dividere in alcune principali macrozone, di cui l'area occidentale, che è occupata principalmente dal cimitero Parco, detto anche cimiterio di Torino Sud, il secondo cimiterio della città, e dal raccordo della A55 di Corso Orbassano. Tra l'altro l'area dello stabilimento della Fiat, che è ormai diventata Stellantis, compresa tra Corso Orbassano, Corso Tazzoli, Corso Agnelli, Corso Unione Sovietica, e via Carlo Biscaretti, parte di via Faccioli essenzialmente occupata da impianti industriali. Il quartiere di Mirafiori Sud, in pratica, come ho detto, prima era circoscrizione 10 e adesso invece quella 2, è chiuso tra via Pavia, via Anselminetti, strada del Drosso, via Faccioli, e al suo interno troviamo via Giovanni Roveda, via Quarello e via Neagarville. Come ho detto ci sono delle macrozone, quindi c'è anche il villaggio, detto anche Cime Bianche, una zona abitativa compresa tra via Biscaretti e via Pavia, sorte popolata durante la crescita accopazionale della Fiat negli anni 60. Poi c'è la città Giardino, dove furono costruite 19 villette, uni obi familiari, tra via Pavia e le sue vie trasversali, dotate di piccoli giardini e piccoli orti, dove praticamente le realizzò l'ente nazionale della città Giardino, nata, praticamente nato per portare anche in Italia la filosofia britannica del Garden Cities. Lo stile di queste case è elegante e gradevole, ispirato al Liberty. Ecco, adesso mentre cammino vi faccio vedere che questo è il mercato di Via Don Grazioli, che tra l'altro è un mercato coperto, ma negli anni passati, diciamo così, era molto pieno di bancarelle, c'erano molte persone, però adesso non è più così. Come potete notare è quasi vuoto, poche bancarelle, poche persone che vanno a comprare, però è comodo per quando piove, oppure c'è il sole e quindi ci si può riparare. Comunque, torniamo di nuovo al nostro discorso di prima. Quindi, in pratica, per ritornare praticamente alla questione Liberty, si era affermata la città Giardino praticamente a Torino nel decennio precedente, di cui le cornici presentano motivi floreali e greche di ricordo classico, di cui i balconi sono in ferro battuto, i portoncini sono incorniciati da reminiscenze di gusto classico, di cui poi c'è il rione compreso tra Corso Unione Sovietica, Strada delle Cacce, Via Onorato Vigliani, Strada del Castello di Mirafiori, di cui fulcro rimane il mercato rioneale di Via Cesare Pavese. Oltre alla vasta area verde del Parco Colonnetti, che comprende gli impianti sportivi del Custo Rino e quelli scientifici dell'ex CNR, poi diventato Istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris, oggi Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Il vasto parco sorge sui resti del vecchio aeroporto chiamato Campo di Volo Mirafiori o il rapporto Gino-Lisa, mentre oggi è diventato una vera e propria riserva naturalistica. Poi c'è Bassi di Mirafiori o Bassi Lingotto, una zona compresa tra Via Artom, di cui ho fatto anche dei video, e di cui il confine con Via Sestrier di Moncalieri e il torrente Sangone di Nichelino, caratterizzata da case in mattone rosso, basse e popolari, che furono costruite proprio per gli operai della Fiat, proprio dietro le caserme di Viarto. Ma adesso parliamo un po' di qualcosa di vecchio che riguarda questo quartiere. Come molti sanno, a me piacciono i cavalli, perché ve ne ho già parlato. Essendo che ho fatto equitazione, come poter non parlare di una questione legata proprio a questo sport che riguarda questo quartiere. Allora, voi lo sapevate che dove c'è Piazza Guala praticamente, attualmente, in passato, è nato il primo ipodromo torinese. Ecco, questo è nato nel 1906. Ovviamente era una cosa solo per nobili, perché erano loro che dirigevano questa cosa qui, e che tanto si sa che in genere l'equitazione è sempre stato uno sport per ricchi. E tra cui questi erano il conte Giuseppe Tarino di Gropello, Vittorio Balbo, Bertone di Samburi, Enrico Marone, Cinzano e ancora Federico Telesio, fino alla lunga permanenza della stessa famiglia Agnelli e della fabbrica Fiat. Praticamente che tutti conoscono, no? Tra cui l'ippodromo fu dismesso nel 1958, proprio per lasciare spazio al nuovo rione di Altipalazzi, per spostare in pratica le gare nell'ippodromo di Vinovo, quindi che praticamente è la prima cintura della città. Vinovo è stato un ippodromo molto importante, che in pratica io ci sono stato personalmente, ho potuto vedere sia qualche gara di trotto di galoppo, ho visto anche scene western, perché praticamente c'era una festa, ma questo è successo vari anni fa, che praticamente c'è stata la festa del cavallo, e allora facevano una grande pubblicità alla radio e praticamente tutti quanti andavano lì, anche con le persone che in realtà non interessa l'equitazione, ma quel giorno erano tutti lì, me lo ricordo, perché facevano vari spettacoli ed era veramente bello. E quindi questa cosa qui mi è rimasta, perché è l'unica volta che sono andato nell'ippodromo di Vinovo, di quello di cui, diciamo, è nato così in pratica, anche se praticamente dell'impodromo di Mirafiori non rimane praticamente più nulla, se non alcune foto d'epoca. Poi successivamente sono nate le officine aeronautiche e l'aeroporto di Torino Mirafiori, che poi successivamente è stato utilizzato per scopi militari, ma fu dismesso nel secondo dopoguerra per lasciare spazio all'attuale parco Colonnetti e passare tutta la viazione torinese all'aeroporto di Corso Marche e successivamente a quello di Caselle, che praticamente è successo nel 1953, ma l'aeroporto di Caselle ancora, diciamo, è attivo, insomma. Quindi alla fine se andate, cioè qui a Torino, volete andare all'aeroporto, dovete andare a Caselle in pratica. Ad esempio qualcuno si potrebbe chiedere ma ci sono, ad esempio, delle zone di interesse, edifici storici che noi possiamo andare a visitare, ad esempio. Questo vale sia per chi non abita a Torino, ma anche per i torinesi stessi, magari che ci sono delle cose che magari non sa, perché giustamente non tutto si va a visitare, anche chi vive a Torino, anche da tanti anni, magari tante cose manco si guardano, perché è così. E questo vale per tutti, diciamo, gli abitanti della Terra, che uno guarda più le cose che sono all'esterno e poi magari le cose che sono presenti nella propria città non si vanno a guardare. Ad esempio, una di queste sono i ruderi della torre di controllo dell'aeroporto di Mirafiori, visibile da via Formigini. Poi c'è il Castello del Drosso, al confine con Benasco, il Mausoleo della Bella Rosin, che abbiamo già fatto un video proprio l'anno scorso. E poi c'è, ad esempio, la borgata Mirafiori, che lungo la strada comunale di Mirafiori, è sorta all'omonimo castello intorno al XVII secolo, come nucleo di cascinali ed edifici ad uso agricolo, di cui fu riconvertita ad uso residenziale, riqualificata dal comune di Torino proprio tra il 2013-2014, insomma, tra dieci e nove anni fa, insomma, in poche parole. E poi c'è anche l'Heritage Hub, che ha sede nei locali dell'ex officina 81 e di Via Plava, di cui è stato uno praticamente dei storici impianti di produzione meccanica Fiat all'interno del comprensorio industriale di Mirafiori. Quindi ci sono oltre 15.000 metri quadrati di superficie che ospitano gli uffici del Team Heritage, una affascinante mostra che racconta la storia dello stabilimento di Mirafiori e soprattutto l'imitabile collezione aziendale di vetture prodotte dai marchi Fiat, Lancia e Abarth. Lo spazio accoglie quindi anche una selezione di vetture, tra cui autobianchi, Alfa Romeo e anche le Jeep, ed è stato dellestito inoltre un suggestivo spazio, tra cui l'area motore dedicata ai motori d'epoca. Altre cose che potete trovare in questo quartiere, ad esempio impianti sportivi, poi parchi e ari verdi, stabilimenti e scuole superiori, che praticamente piano piano poi magari ve le farò vedere, poi con il passare del tempo, se capiterà che mi trovo di nuovo da queste parti, adesso faccio un giro così, un po' generale, ma poi col passare del tempo magari posso andare a fare dei video in modo mirato, ma deve essere ovviamente sempre tutto dall'esterno, perché dall'interno non ho la possibilità di farlo, perché non mi viene dato in pratica magari i permessi, magari può darsi che me li daranno, e io posso anche chiedere a delle scuole se mi faranno fare, ad esempio, dei video intervistando dei professori oppure, non so, qualche direttore di qualche scuola, non lo so, poi vediamo, adesso è solo un discorso così. Ed eccoci qua. Ebbene, adesso sto praticamente facendo un po' il giro giro tondo, perché sto praticamente cercando di riapparire dove eravamo partiti quasi dall'inizio, quindi sto facendo un po' il giro, vediamo un po', magari passo da quella parte là, devo attraversare la strada, vediamo un po', e vi faccio vedere quest'altra parte qua vicino, e poi torno indietro, così almeno vedete anche questa parte, visto che mi trovo da queste parti, me la approfitto. Aspettate che giro la telecamera. Nel frattempo che passeggio per visitare questo parco, e così poterlo mostrare, vi dico che questa parte di Mirafiori Sud è, diciamo, una parte che mi piace, anche se ho già visitato, e vi ho fatto vedere anche la parte di Mirafiori Sud, in cui praticamente si vedeva sia a parte la parte di Via Artom, oppure, non so, vi ho fatto vedere in passato anche quella tipo dove c'è Corso Benedetto Croce, però io tutte quelle zone lì ho fatto solo vedere una parte, non ho fatto vedere tutto, come adesso sto facendo vedere questa parte, però poi, piano pianino, tornerò sempre negli stessi quartieri, per poterli poi spulciare fino alla fine, diciamo, perché non riesco in pratica a filmare tutto quello che c'è, tutto insieme. Ovviamente ci vuole il suo tempo, farlo con calma, puoi caricare i video anche con calma. Anche questa è una cosa molto importante, perché comunque ci vuole il suo tempo, anche per montare i video, non è solo per caricarli, già per caricarli ci vuole. Poi a seconda pure della connessione internet, poi dipende anche dalla lunghezza del video, dipende insomma da tanti fattori, poi anche la qualità, tipo cosa viene fatto, tipo questo video, tipo in 4K, ad esempio, gli 4K sono veramente pesanti, infatti io preferisco la qualità di HD60, perché a volte mi capita che carico dei video di 4K, e a volte li devo cancellare, li devo rifare, perché purtroppo, se non riesco a caricare, è inutile, e purtroppo è così, e quindi l'HD60 è il formato migliore. Certo è una qualità un po' inferiore, però comunque va sempre bene, non è una qualità scadente, e i video vengono abbastanza discretamente, anche se ho notato che ci sono delle piattaforme che quando li carico i video, non so perché, mi rovina un po' la qualità. Praticamente si vede una volta in certi punti che viene un po' tipo, ho sbiadito oppure sembra che è sgranato, ma in realtà è dovuto dalla piattaforma e non dal mio telefono. Infatti a me vengono sempre nitidi i video di alta qualità proprio quando li registro, però purtroppo a volte capita che ci sono piattaforme che te lo rovinano il video, e lì certo è un po' fastidioso, però quando capita ogni tanto, allora in quel caso non è colpa mia e ne è anche né di Nello né di altri, comunque succede che ad esempio ci sono delle piattaforme, anzi una piattaforma, che non faccio il nome, ma ho notato con, mi è capitato sia a me personalmente che ad altre persone, che il video glielo capovolge e non si riesce a capire il motivo perché succede, poi ti lo rigirano, non se ne rendono conto dell'errore che è loro e poi te lo rimettono dritto, però purtroppo queste sono cose tecniche che purtroppo succedono. Nel frattempo io mi faccio questa bella passeggiata in questo parco di cui si può venire anche a giocare anche a basket, si può fare varie cose in questo parco e passare il tempo con parenti e amici e adesso passo qui sotto proprio di proposito, proprio per farvi vedere il parco da questo punto di vista, perché potrei andare solo dentro e invece voglio passare proprio sotto queste colonne, diciamo così. Intanto potete osservare un po' il panorama e comunque posso dire che non è brutto, anzi, tutt'altro, è proprio un bel parco. E adesso, come vedete, si torna indietro. Guardate che c'è il cane che gioca, che bello, eh? Adesso vediamo di allontanarci per tornare praticamente dall'altro punto di vista, insomma, farvi vedere il parco da vari punti di vista e così almeno tornare nella direzione da dove sono arrivato. Dai, così oggi vi ho fatto vedere questa parte di Torino e mi sono fatto una bella passeggiata. Certo, ho girato un po' intorno, però è bello vedere anche una parte di quartiere, qualunque esso sia, vederlo da diverse prospettive, perché anche se si gira sempre nello stesso luogo, farlo vedere con prospettive diverse, poi i nostri occhi, non solo di voi che guardate a casa, sarà, ma anche per me, per noi che creiamo video, sarà un nuovo modo di vedere questo luogo. e così almeno poter vedere varie cose. Come vedete, vi sto indicando questa parte, adesso ogni tanto mi giro e via. Posso dire che questo giro mi è piaciuto perché così almeno vi ho potuto raccontare anche un po' in modo dettagliato in pratica quello che c'è nel quartiere e mirafiori anche se questa è la parte sud vi ho parlato anche della zona nord eccetera eccetera senza ripetere adesso tutte le cose però sono delle nozioni utili da sapere proprio se si viene in questo luogo anche per questioni storiche anche questa è una cosa bella sapere insomma di come è nato un quartiere perché giustamente bisogna sapere varie notizie sia attuali che storiche come potete osservare io adesso sto rientrando praticamente alla base cioè nel senso da dove sono partito all'inizio però ho fatto tutto il giro dell'isolato proprio per farlo vedere da vari punti di vista e così almeno poi potrò piano pianino staccare un po' il video quando sarà il momento giusto ma non ci mancherà ancora molto in pratica adesso ci troviamo vicino al portico che infatti adesso ve lo faccio vedere un attimino eccolo qui e in pratica adesso il video terminerà quindi io adesso vi saluto e praticamente poi ci vedremo nei prossimi video con nuovi contenuti interessanti e